ed è causato soprattutto dall'isolamento di alcune comunità, dai lunghi periodi di buio invernale come in Groenlandia e dalla difficoltà negli spostamenti infatti in alcune zone è vietato l'alcol è il suo powerpoint e il briscafo a posto benvenuti in una nuova puntata di Immigrati Podcast oggi ragazzi, voi non avete il powerpoint aperto vero? Immigratissimo! Sì, ce l'abbiamo Guardate la bandiera e ditemi secondo voi di che nazione è? Unione Europea No, 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 allora bisogna capire, ok? Senza andare avanti, possibilmente È la cinesata dell'Unione Europea No, secondo me Sembra qualche paese Posso vederla? Un agglomerato di isole nel Pacifico Allora, c'è un paese principale che è in alto a destra Ve lo dico No Alaska Sì, giusto perché non è di nessuno e quindi è di tutti Allora la cosa interessante è che la bandiera dell'Alaska è stata disegnata da un bambino Interessante Perché questo bambino sembra lo zio di qualcuno di noi? Sì, in realtà gli sembra un po' vecchio questo bambino Sembra un po' lo zio di qualcuno di noi È stata disegnata nel 1927 Ma è stato disegnato anche il bambino di questa foto? Sì, perché il bambino sembra veramente È una foto vecchia L'ha disegnata nel 1927 all'età di 13 anni Ma è una laschese lui? È un'altra parte che si chiama laschino Si chiamava Benny Benson Ma secondo me l'hanno obbligato raga, dai guardate che faccia L'hanno sicuramente disegnato Lo sfondo blu simboleggia il cielo ma anche il non ti scordare di me che è il fiore simbolo dello Stato Poi la stella che vedete in alto a destra è la stella polare mentre le altre stelle rappresentano la costellazione del grande carro Il punto è questo In Alaska non ci sono molte strade asfaltate Ok, quindi il mezzo principale per spostarsi Motoslitta No, all'interno dell'isola è l'aereo Aereo? Costa un po' Infatti tutti gli aspetti della vita sono basati sull'avio sull'aviazione Stai prendendo la buttapiglia La violenza Sì, è gigante l'Alaska vero? Eh, ma hanno gli aerei che vanno sulle strade Intendi quelli con i gli slettine Mi sembra un po' strano che si spostino con gli aerei No, si spostano con gli aerei Gli aerei oppure con motoslitte L'Alaska ha 6 volte più piloti pro capite e 16 volte più aerei per abitanti rispetto al resto degli Stati Uniti Ormai il confine è così frastagliato? Ma quello non penso sia il confine perché mi sembra strano Sono isolette però quelle Ma come isolette isole dentro l'America non riesco a capire Ma sai per fare un confronto con gli Stati Uniti Ah, ok Casi Casi Che stato è quello? Scusami che faccio L'Alaska è attaccata al Canada Su a sinistra Ci sono meno di 12.000 miglia di strade asfaltate 10.000 miglia e 12.000 chilometri Vabbè facciamo 15.000 Esatto Mi ricordo un po' Tu avevi fatto Groenlandia Esatto E mi ricordo parecchio la Groenlandia Stessa cosa Hanno principalmente Però lì viaggiano con le motoslitte Esatto Motoslitte Aerei Si serve E non hanno Molte strade asfaltate In aereo In ospedale Ci vengono con l'aereo Gli elicotteri Infatti Gli elicotteri russi Sì Per i medici Per il soccorso Esatto La capitale È accessibile Solo via aereo Via mare Perché si vede Che è una di questi isolotti Ma c'è freddo quindi là Sì beh c'è freddo Fai conto che Sono state registrate Delle temperature Intorno ai meno 83 gradi E Nell'Arctic Research Center Fa classificare l'Alaska Tra le prime regioni terrestri Preferire sempre Tra l'altro c'è Nella cittadina di Nenana Non so se si pronuncia così Si svolge un Un evento E si gioca A malatteria basata Su quando Il ghiaccio Si romperà Nel fiume Tanana Ah questa la sapevo L'ho letta forse in un libro Praticamente mettono Un cavalletto Con un orologio attaccato E quando si rompe il ghiaccio L'orologio si blocca E chi ha scommesso Su quell'orario Di quel giorno Vince i soldi Ah fighissimo E c'è una webcam Perché si blocca l'orologio? Non lo so Nel senso C'è quando L'orologio si ferma E vince chi Ha scelto Quell'orario Giusto? Esatto Ma perché si ferma l'orologio? Allora no Aspetta l'orologio è collegato A delle corde E nel momento in cui Il supporto cede Lui si ferma Ah ok Esatto C'è una webcam C'è una webcam Che riprende il fiume Tutto l'anno Io l'ho guardata L'altro giorno Però adesso Non è congelato Però è interessante Il fatto che Sia classificata Come una delle regioni Più fredde Mi piace un sacco Questa cosa fa Della lotteria comunque Dovremmo farla anche noi Con il sangue di San Gennaro Quindi questi Tipo quando Quando Con il sangue sciogliono Esatto Ma perché Questo sangue di San Gennaro Dov'è? In una polla Penso che sia A Napoli In una delle chiese Forse è la chiesa di San Gennaro Non lo so Non lo so Però praticamente Quando È il giorno di San Gennaro Il sangue torna liquido Sì Però è Il segno di fortuna Se si scioglie Se viene liquido Praticamente È il miracolo È il miracolo di San Gennaro Il sangue In quel giorno Dovrebbe tornare liquido Esatto E Però è molto Contestata questa cosa Perché può essere Cioè può essere anche Un fattore di robe chimiche All'interno Non è detto Cioè si dice che Dentro quell'ampolla Ci sia il sangue di San Gennaro Che il giorno Il suo giorno Si liquefa di nuovo Ma la domanda è Come fai ad essere solido? Esatto Come fai ad essere solido? Vabbè ragazzi Qui stiamo parlando Di religione Ok La mia cosa Sarebbe stato figo Se anche qui in Italia A Napoli Facessimo una lotteria No? A che ora Si scioglierà il sangue Il sangue di San Gennaro Sarebbe interessantissimo Secondo me Uno dei problemi Dell'Alaska È l'alcolismo Perché Strano È incredibile Quindi C'è questa combinazione Incredibile Groenlandia Alaska È uguale Ed è causato Soprattutto dall'isolamento Di alcune comunità Dai lunghi periodi Di buio invernale Come in Groenlandia E dalla difficoltà E dalla difficoltà Negli spostamenti Mi sono copiato La puntata Secondo me Infatti In alcune zone È vietato L'alcol È cambiato la bandiera All'inizio È il suo powerpoint È il bliscappo Ma ci parlerai anche Di salmone Di elicotteri Di smessi L'alcolismo Infatti genera Altri problemi Tipo Il numero di suicidi Le violenze domestiche Ma La sindrome Alcolica La sindrome Alcolica Fetale Nei bambini Devuta all'abuso Di sostanze Cos'è Una manifestazione Conclamata Di danni Causati dal consumo Di alcol Dalla madre Quando incinta E I danni principali Sono anomalie fisiche Mentali Alterazioni comportamentali Deficiti di attenzione Apprendimento E i danni Sono generalmente Permanenti Ho capito Allora Diciamo che È letteralmente Ho capito Non fumare Ho capito Ho capito Allora Cioè Letteralmente Quando dicono Non fumare Non bere Tanto la gravidanza Perché Che succede Ha un nome strano Però è Sì Finito Come è finito Torniamo indietro Aggiungiamo qualcosa Questa era davvero Troppo corta Scaffa Questa è stata Molta corta 10 minuti Un video di tiktok Questa 15 Quattro 3 curiosità Siamo a 10 minuti In realtà Siamo a 10 minuti 10 minuti Ma no Bellissima Questa puntata è bellissima Perché è così La pubblichiamo così Senza tagli La buttiamo La buttiamo subito Nel punto Bene Grazie per essere venuti Anche oggi Qua ci stava solo Un altro argomento E basta Esatto Forse si dava un altro Per fare quei 3-4 minuti Un altro Ok Beh ve lo dico io Allora Subito Riciclalo dalla mia puntata No l'Alaska Confina con la Russia Quindi gli Stati Uniti Confinano con la Russia E si dividono Un'isola Piccolina Che in realtà È divisa in due isole Una l'isola più grande Della Russia E l'altra degli Stati Uniti Quindi l'Alaska È uno stato diviso a metà No l'isola Che c'è L'isola L'isola Le due isole Non mi ricordo La veri tu Se non mi ricordo No è un'altra cosa Quella Vabbè comunque Una parte di quel territorio lì Appartiene agli Stati Uniti Alla Russia Secondo me l'Alaska Viene anche utilizzata Come centro di spionaggio Per la Russia Da parte degli Stati Uniti Contro la Russia Perché sono molto vicini Ma perché Stati Uniti E Russia Sono in perenne guerra Allora Fai conto che Il presidente Guerra fredda Non lo so io Allora Il presidente Reagan Non è corta Parliamo della guerra Negli Stati Uniti Il presidente Reagan Se non sbaglio Lui era Assolutamente Contro I comunisti Quindi Ha Fatto un sacco Di guerre Contro il comunismo Tra l'altro Lui vedeva Meglio Pablo Escobar Preferiva Pablo Escobar Ai comunisti Diamo una spiegazione Un po' più larga Dopo la fine Della seconda guerra mondiale Il mondo si divide In due fazioni Ok Comunisti Da una parte Abbiamo Il mondo libero Costituito Soprattutto dagli USA E molti altri paesi europei Dall'altra parte invece Abbiamo L'URSS Ok E c'era questo problema Che ognuno Di questi due grandi paesi Voleva Mettere la propria influenza Imporre la propria ideologia Sugli altri paesi O meglio Voleva sì Che gli altri paesi Non diventassero Della fazione opposta Ok Quindi gli USA Non volevano Che alcuni paesi Strategici Diventassero Dell'URSS E viceversa E si contendevano I vari paesi In quel modo lì Infatti si chiama Guerra Fredda Perché non c'è stato Un vero e proprio conflitto Ma semplicemente Perché si facevano La guerra Sul piano ideologico Fredda Proprio perché Non c'è stato Niente di Non ci sono state Violenze Ok Semplicemente per quello Che c'è questa grandissima Divergenza Tra le due cose Ok Ma adesso La Russia Non è più Comunista La Russia Cosa scusa? La Russia No Sulla carta Non è più comunista Perché l'URSS È caduto È caduta Adesso Non è nemmeno comunista Neanche nei fatti Sì esatto Perché non gli conviene Neanche essere comunista È una monarchia adesso È più un regime Autoritario Perché Putin L'hanno votato Però c'è sempre Lui da svariati anni Quindi il problema Principalmente tra USA Detto proprio in maniera Semplicissima Tra USA E Russia È proprio questo Sono problemi Proprio di Sappiamo benissimo Chi ha vinto Tra il comunismo E il capitalismo È caduto l'URSS Quindi più di così Chiudiamo qui Questa bellissima puntata E ne parleremo In un'altra puntata Di guerra fredda Direi Va bene È un argomento impegnativo Di cui possiamo parlare Per vari minuti Immigrati podcast Arrivederci Non lo so Non l'abbiamo chiuso un cazzo È 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 un cazzo Ciao Chols